Bella, l'ultimo minuto di sentire in cori andare sotto, non sotto la curva ma sotto la gradinata, sembrava indossare ancora questa maglia, dopo aver vinto una partita importante andare sotto e risultare come i vecchi tempi, però sono passato pochissimo tempo, mi trovo dall'altra parte, molto più difficile, però va bene, va bene, è stata una giornata sicuramente bella e dimenticata. Devo mangiare ancora di pasta asciutta, spero di non ingrassare, però al di là delle battute penso che ancora c'è tanta strada da fare, devo migliorare, devo fare esperienza, devo dimostrare il mio lavoro, se questo lavoro lo so fare, però come dire, sarei pochissimo da dire che non mi piacerebbe un giorno allenare questa squadra, è una squadra che mi ha dato per 13 anni, l'ho vissuta 24 ore su 24 ed è normale che l'obiettivo è quello di far bene questo nuovo lavoro e un giorno si mi era della possibilità di farlo bene.